Questa è vieglia in giù. Vieglia in giù, mi scusi, che anno è? 1928. La processione del venerdì santo del 1928. E' una cosa troppo bella. A te non te riprende. Che scherzo, non voglio. Non vuoi? Beh, mica devi riprendere così. Che serve per gli ammetti? No, è che serve riprendere questa cosa che è quasi un secolo fa. Scarsi? No, hai detto 20? 28. Ah, 28. Quindi 80, 85 anni. 82 anni. Perfetto.